Una giornata intera dedicata ad una discussione, la discussione più importante fra tutte, quella della tutela dell'ambiente, anche grazie alle manifestazioni internazionali dei ragazzi di Friday for Future, è finita oggi pomeriggio con la mancanza del numero legale perché la maggioranza pensava ad altro. Io credo che questo sia un momento per riflettere rispetto alla strada che ha percorso in questi mesi e che intende ancora percorrere la maggioranza sulle questioni più importanti che riguardano i piemontesi. Far mancare il numero legale sull'ambiente non va bene.